Ultimo appuntamento con le visite teatralizzate alla Valle dei Templi, un vero e proprio spettacolo emozionale ambientato nella splendida cornice naturale della Valle dei Templi, dove ogni giorno il paesaggio della campagna siciliana si sposa ad arte con l'archeologia. Domenica, primo settembre, domani, all'alba, infatti, in programma l'ultima visita di quest'estate 2019, che ha visto aumentare di volta in volta il numero degli spettatori. Una trama di fondo semplice ma essenziale percorrere il tratto superiore della valle nella penombra della notte che sta per volgere al termine, giungendo davanti al Tempio della Concordia, proprio quando Eos, dalle dite di Rosa, che anticipa il carro del sole guidato da Apollo, vibrandosi in volo con batti totali impercettibili, avrà percorso tutta la collina, tingendo di un rosa fiammenciante il frontone del Tempio. Lo scenario aulico e solenne della Valle dei Templi, che si risveglia dal torpore della notte, verrà suggellato nella mente degli spettatori da un vortice di sensazioni, l'odore della campagna estiva bagnata dalla rugiada mattutina, i versi dei rapaci notturni che pian piano cedono la scena degli uccelli, lette ai galdi e all'attrato dei cani in lontananza, il fruscio delle foglie mosse dal venticello mattutino, il cielo buio che all'orizzonte si colora di blu elettrico con venature sfumate di viola. All'interno di questo magico balcoscenico si esibiranno attori e comparse nel ruolo di dei, eroi, eroine e diverse figure mitologiche, tutti tinti di bianco come fossero delle statue che nell'oscurità riprendono vita, si esibiranno in una performance singola o a piccoli gruppi che scandiscono il percorso di visita, tra rievocazioni di arcaici rituali, corse danzate, rispetti, ritanie e declamazioni di versi tratti da opere di celebre autori dell'antichità, il corteo dei visitatori giungerà davanti al Tempio della Concordia guidato da archeologi e guide esperte che di performance in performance imbasteranno il racconto della visita, esperienza irripetibile, sospesa tra archeologia, mito e magia di un sogno estivo ad occhi aperti, la visita teatralizzata termina al Tempio della Concordia.